Caserta è stanca di perdere in trasferte e per riprendersi l'ottavo posto solitario in classifica vuole i due punti in palio al Palazzo Remigni di Sassari. Ecco perché i bianconeri partono a razzo con la tripla di Roberts ed il canestro dell'applauditissimo ex Tony Easley. Lo sprint ospite non si plaga con i missili in successione di Roberts e Moore ed è più 8 sul 4-12. Diventano 11 i punti di Roberts dopo 5 minuti di gioco e allora la Dinamo per ricaricarsi ha bisogno di tutto il talento offensivo dei due green. La pastareggia spinge sull'acceleratore con il nuovo volo sul ferro di Chris Roberts, poi Capitano Mordente firma il più 7 da fuori l'arco. Il banco però si rifar sotto con Drake, Diner ed un bel primo quarto si chiude sul 25-26. Alla ripresa del gioco Caleb Green mette la freccia e passa ma Brooks e Vitali non ci stanno e riportano avanti Caserta. Scott entra subito in partita con una bella conclusione dalla media, poi due minuti dopo si ripete da fuori l'arco ben assistito da un ispirato Ronnie Moore. Con i canestri di Michelori la Juve segna il più 8, Sacchetti si fa notare dalla linea di 6,75 ma Brooks replica subito con l'azione da 3 punti 39-47. Sassari è incredula perché Caserta non smette di segnare e trascinata da Jeff Brooks arriva all'intervallo con 57 punti segnati e 50 subiti. Punteggio altissimo, attacco da record per i bianconeri. E di Tessitori il primo canestro del terzo quarto seguito da un vivace Caleb Green. Caserta si smarrisce un po' e Marcus Green ne approfitta con la tripla del sorpasso, prima del controsorpasso operato da Vitali e Brooks. La Juve dimostra di avere la forza mentale per rimanere in partita superando il blackout. Brooks si carica sulle spalle i compagni Roberts, schiaccia in contropiede all'ultimo stop se arriva sul 66-75. Dopo quattro mesi dall'ultimo successo in trasferta la passareggia sta per replicare l'impresa di Siena. Brooks e Mordente bombardano la retina, il missile del capitano significa più 18 Juve. Il banco prova la rimonta e Caserta scherza col fuoco disintegrando quasi del tutto l'ampio buttino. In due minuti i sardi risosicchiano 15 punti ma dalla lunetta le mani dei casertani non tremano al suono dolcissimo della sirena finale. Il tabellone dice 92-95, colpo a sorpresa della banda guidata da coach Moline che stacca Pistoglia e Varese prenotando, stavolta per davvero, l'ottavo posto playoff.